Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. I'm Mo Rocca and I'm excited to announce season 4 of my podcast Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. C'è un ragazzo con la sindrome di Tourette, credo si pronunci così, una roba del genere, che praticamente mi ha preso in simpatia. Però il suo modo di esprimerla è molto particolare. Immaginate che siamo in una stanza, stanno, non so, 50 persone, 100 persone. Entro io e questo mi guarda e fa Hai rotto il cazzo? Poi mi ha chiesto come mi chiamo, no? Quindi Filippo hai rotto il cazzo? E poi mi fa Hai rotto io il cazzo? E lui si sbellica tutto felice. Ovviamente tutti lo ignorano, tranne io che non ce la faccio ad entrare in empatia. Poi ovvio che Stay calm, nel senso non mi puoi crepare tutti i giorni. Però è un ragazzo con problemi e va bene così. Questa roba mi ha Come al solito quando accadono queste cose mi fanno riflettere. Per io mi faccio una risata Poi rifletto Perché comunque Ho riflettuto, cazzo, com'è che solo io entro in empatia Con questo pazzoide Una persona malata Però comunque io non gliela faccio a ignorarlo Cioè alla lunga sì, però i primi giorni, no? E poi in questi giorni Ho ultimato un progetto che sto mandando in giro E faccio i conti con tanti feedback Alcuni molto belli, alcuni un po' spiazzanti E quindi mi ritrovo a fare i conti anche con molte prospettive Che Cioè faccio fatica a fare entrare le persone Dalla mia prospettiva Mentre col podcast è facile, è un talk, sono qui Magari col cinema fai una fatica in mane Perché ho notato che siamo tutti quanti Sotterrati dal torpore Io in primis Dei prodotti Che non è che possono essere di qualità o di non qualità Insomma, per me Better Call Saul è la più bella serie Insieme a Breaking Bad Ovviamente insieme Sono il franchising migliore delle serie tv Mai state fatte Lo stile con cui state girate Proprio perché ridanno molto anche sul cinema Ogni film è come fosse Ogni episodio è come fosse un film Però anche lì comunque c'è lo stile Da serie televisiva E che va completamente in contrasto Quindi anche la qualità segue un certo format E quindi quando tu esuli da quel format La gente fa fatica proprio a capirti Che se tu ci siedi E dici guarda questo è così Così cos'hai Dai gli strumenti alla persona di capirti Poi magari ti riscrivono Lo sai ho rivisto con quelle cose che mi hai detto Cazzo io non avevo capito nulla E ci sta E io ripeto sono il primo Che commette queste cose Perché non si riesce Allora volevo proprio fare un ragionamento Partendo da questo ragazzo Con la sindrome duretta e questa esperienza Per approfondire quel discorso Che io ho fatto spesso negli ultimi episodi Della crescita interiore E dei sacrifici Che sto facendo con me stesso Per accrescere in certi lati In cui non mi sono mai concesso di accrescere E vi faccio l'esempio di questa estate In cui praticamente Ho avuto una discussione con un amico Una discussione non solo Cioè discutiamo tutti i giorni E è iniziata giocando Ed è stava finendo nel delirio Nella tragedia Cioè due amici che si mettono le mani addosso Stava per accadere questo E mi ricordo che Quando c'è stato proprio il momento In cui devi decidere Cioè no Incontriamoci e diamocele Io ho iniziato mentalmente Ad architettare la location Come muovermi Come partire Cioè mi stavo preparando la battaglia Cosa che non facevo da tanti anni E mi sono fermato E ho detto Ma che cazzo stai pensando Che cazzo stai facendo Tra dieci giorni questa cosa Te la sei scordata Questo è un amico Magari non il tuo miglior amico Ma è un amico importante E quindi E poi è andata così ovviamente Però in quel momento C'è stata una cosa Dentro di me è cambiato qualcosa Io mi sono guardato Ho detto No Non voglio andare a fondo E quindi Io subito ho scritto Ho detto No Non ci sto Basta Non voglio più discutere Non voglio avere questo problema Non voglio prendermela con te Perché sei un fratello È stato questo il mio concetto interiore E anche perché Non mi va di sfociare Nel 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 lato peggiore di me Per motivi di orgoglio Perché lì si parlava di quello E forse per la prima volta Dinanzi a uno scontro Di questo genere Ho fatto un passo indietro Non mi era mai successo A costo di Di rischiare Cioè lì quando sei lì Devi ballare No E invece lì ho detto No io faccio Sono io che faccio un passo indietro Chiedo scusa per gli errori Che ho commesso Non pretendo le tue scuse Ognuno per la sua strada Ma io faccio un passo indietro Quando la litigata Si stava spostando Verso No E lì come vi ho detto Ho iniziato a fare Un mio percorso interiore E ogni volta Che mi trovo davanti Ai miei demoni Che mi spingono A fare cose Che non vorrei fare Cerco Con Una forza di volontà Incredibile Di fare un passo indietro E che non vuol dire Farsi mettere i piedi in testa Non c'entra niente Cioè non ci arrivi Nel momento in cui Perché ci vuole anche tanta maturità Quando capisci che qualcuno Sta iniziando A fare un percorso Che lui manco lo sa In cui cercherà Di prevalere su di te Lui quando cerca di prevalere Tu te ne sei già andato L'hai già sgamato E quindi mi faccio anche Il figo Con me stesso Del tipo Sgamati subito Che non è Ripeto Una fuga Tutt'altro È un confronto acceso Fino a che si rimane I limiti dell'umano E quindi Se io sto camminando per strada È un tizio In macchina Mi fa pezzo di merda Non è Ah pure tu Figlio di puttata Scendi Ti ammazzo Ma è Ma che cazzo Ti conosce Ciao Non devi dare proprio Modo Ragazzi è dura Perché Ogni volta che ti diri indietro Fai i conti Con te stesso Ogni volta Poi torni a casa E c'hai quella voglia Di aggredire Di far male Di prendertela Con le persone Quando c'è un problema Attenzione Bisogna indignarsi A livello ideologico C'è un confronto Ma Sulle cose utili E purtroppo Il mondo è fatto di cose Inutili E ci troviamo a discutere Per le cazzate Ho citato tre esempi Ma che vogliono arrivare Alla stessa Conclusione Da quando Ho tolto la maschera Da duro Che mi ha Da duro nella vita Che poi Se sei Diciamo Duro dentro Comunque quella cosa rimane Quando mi ritrovo In certi ambienti teatrali Magari in cui devi fare Terminati esercizi Magari al fine cosa C'erano persone che mi dicono Mi stavo a guardare in un modo Che sembra che mi volevi uccidere Io faccio No ma ti pare Solo che magari Nello sguardo rimane Quella cattiveria Quel background Un po' di strada Il passato Il dolore Quindi quella roba Non la riesco a nascondere Dagli occhi E questa è la differenza Come i rapper Che vogliono fare I galeotti Non sono mai stato in galera E chi invece è stato in galera Vuole nasconderlo E vorrebbe non esserci mai stato E questo percorso Di spogliarmi Di certi aspetti di me Che mi hanno sempre contraddistinto Mi sta mettendo a nudo E mi sta facendo capire La vera umiltà E sì perché io penso Me a 15 anni Paura di niente Me a 18 anni Paura di niente Fai quello che devi fare A costo di rischiare la vita E dico Mazza Quanto ero forte E coraggioso No Ero semplicemente convinto Ero giovane Ero incosciente Quello è il concetto Per incoscienza Non si ha paura Oggi Le paure che avevo allora Allora non le sentivo Oggi le vivo Le affronto Però Sono le stesse E da quando appunto Ho sposato Questa roba Di non violenza E raga è durissima Perché la violenza cede Dentro di me E la vivo nella mia stanza Scapoccio La notte La voglia Di ferire il prossimo La voglia Di fare un'azione Di fare azioni Menefreghiste Di fregarmene Degli altri Di essere solo egoista Il me egoista Vive Vive in me Dentro questa stanza E poi ci sono Le scelte Che uno fa Io credo Che siamo Le scelte Che facciamo A questo punto Perché se io fossi Quello che penso Quello che vivo Quello che potrei fare E allora Fermatemi Chiudetemi Di una clinica Adesso Ma se io sono Le scelte Che faccio Parlo di me Il monologato È sempre più Personal branding Sempre meno Tematiche Varie Tratte Musiche E cose È sempre più Io che parlo Delle mie esperienze Se hanno Una Tinenza sociale Non perché voglio Parlare di me Perché Ma perché Solo di me Posso parlare Per essere Veramente reale Ed arrivarvi Cioè Non è che parlo di me Perché sono il mio idolo Parlo di me Perché Voglio darvi La mia testimonianza Cruda Così com'è Con le mie difficoltà E parlo delle mie fragilità Non delle mie forze E Quindi mi ritrovo A fare i conti Appunto Con queste fragilità E mi rendo conto Ragazzi Che il mondo ti bersaglia Questa cosa Già l'ho detta Ma soprattutto Che Sei lì In balia Del mondo Nonostante Forse è l'unico momento Della mia vita In cui non ne sono in balia Perché il mondo si scanna Fa il suo Io sono Un passo fuori Un passo dentro A volte due passi dentro Due passi fuori A seconda della circostanza Ma sono comunque Immerso In delle dinamiche Di società Massacranti Che provano a schiacciarti E mi sento a volte Impotente E non sono invece mai stato Così potente Come quando riesco A dire No Non cado Nei tuoi stupidi giochi E parlo a qualunque persona Perché io comunque Ho sempre vissuto Sono sempre stato Un'attrazione Verso i rifiuti umani Diciamo anche E noi sono sempre stato L'ultimo All'ultimo banco Con i peggiori Che non sono i peggiori Però fighi I peggiori Ah quello è il peggiore Della classe No no i peggiori Proprio intesi come I più sfigati Dall'elementari Poi a 15 anni 14 anni Ho iniziato Diciamo ad andare Con gli ultimi Della classe Ma i più fighi Fino a che poi Non mi sono costruito Una mia identità Una maschera Come fanno tutti I ragazzi adolescenti Però una maschera Che cazzo È durata tantissimo Ancora non smette Ogni tanto mi serve È necessario Che io metto Quella maschera Quando scendo Giù sotto E sto in via ostiense E ogni tanto Trovo gruppi di magrebini Che stanno litigando Ubriachi E se non vuoi essere partecipe Se non vuoi essere Anche tu aggredito E là Testa alta Sguardo cattivo Il primo che mi tocca Fa una brutta fine Questo devi trasmettere Io faccio 59 chili Sono al tuo metro e settanta Non ho una stazza Che mi permette Di incutere timore Solo al portamento Sono gli occhi Che mi permettono Di non essere rapinato Se la notte Mi ritrovo in viaggio Litti a termini Ed è successo E lì È solo l'attitudine Che ti salva Quindi io Quella maschera La uso e come Quando sono dei problemi La uso e come È importante Ma poi Nella società Nella vita vera Nei rapporti umani Come dobbiamo comportarci Chi dobbiamo essere E appunto E io mi ritrovo sempre Pieno di soggetti Pieno di soggetti Complicati E per loro sono anche Una figura di riferimento Perché io rappresento Per loro Lo sfigato Per eccellenza Che però Riesce a vivere Nella società Come Un privilegiato Lo sfigato Che ce l'ha fatta Uscire dalla sfiga Però Oggi faccio i conti Con tutta questa roba Ecco Vedete quanto è interessante Poi sfatare i miti Perché io sto sempre A che fare con gente Che dice No ma io sono così Io faccio cosa Io Non lo so Vediamo Eh ma devi far così E lì o lì E noi mi sarei comportato In questo modo E non lo so Non dico Che sono in grado Di porgere l'altra guancia Dinanzi a uno schiaffo Sarebbe una cosa Il me di qualche anno fa Io una volta Un tizio mi minacciò di morte Mi era appuntamento Da una parte Avevo 17 anni E Lo feci massacrare di botte In dieci Cioè organizzavo Ah sì ok Vabbè In suo posto Lui sbagliò Perché mi Pure lui mi Mi diede appuntamento In un posto isolato Al buio In piena notte E compà Cioè io penso Che tu mi vuoi uccidere Veramente a me Barabanese Più grosso di me Con tutto il gruppo Questi vendere in tre Io mi presentai Con dieci persone A metà Sono diventati negli anni Anche dei delinquenti Abbastanza affermati Dico Massacrati Io diedi solo Un calcio finale In testa a uno Che giaceva a terra Per farvi capire Anche La mentalità Rischi di fare Veramente male A una persona Che è già a terra Ma pur di prenderti La partecipazione Alla rissa Che non hai neanche Io neanche volevo partecipare Io ero riuscito A far pace Sono arrivati Io mi sono presentato Con questo esercito Ho fatto Che vogliamo fare Per me è a posto così Sì sì no A posto scusami Vabbè Tornate a casa E poi però Le dieci persone Sono partite lo stesso Perché eravamo giovani Affamati Volevamo il sangue Questo è da dove parto Ma parto anche da prima Questo è stato in verità Quando ero diventato furbo Perché a quindici anni Magari mi sarei presentato In due persone E chissà come sarebbe andata Un due contro due Posso sempre andare bene O male E questo è far capire Da dove parto E oggi Mi trovo a fare i conti Che se voglio diventare Una persona migliore E devo imparare invece A porgere veramente L'altra guancia Ed è dura ragazzi È dura Io non Non dico di riuscire A essere un uomo migliore Non ci riesco Però ci voglio provare Tutti i giorni E questo è il messaggio Che voglio dare Poi magari domani Mi trovate qui Che dico tutto l'opposto Di quello che ho fatto Di quello che ho detto qui Sì sì Assolutamente Ci sono periodi Dell'anno in cui divento Una bestia schifosa Ma sarà una bestia Bella testimonianza Anche quella